Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio proporvi un esperimento che coinvolga il caso. Per fare questo esperimento utilizzeremo questo semplice mazzo di carte e dovendo coinvolgere il caso andrò appunto a tagliare il mazzo in punti casuali, un numero casuale di volte, in modo da andare a stravolgere l'ordine delle carte. Dopodiché distribuirò tre carte in questo modo e andrò a riporre il mazzo nella sua scatola. Essendo un mentalista però sono in grado di mantenere un certo controllo sul caso e infatti sento che questa carta è esattamente il 10 di picche. Quest'altra carta è invece il re di cuore. Quest'ultima carta è invece il 3 di fiori. 3 di fiori. Bene, spero che l'esperimento vi sia piaciuto e se così fosse vi chiedo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. Grazie, ciao ragazzi, alla prossima! Grazie. Grazie.